Se ti stai chiedendo perché tu non stia dimagrando nonostante faccia attività fisica regolare, mangi in modo sano e naturale, spenda soldi in palestre e centri dimagranti, la risposta è semplice. Fai parte di un sistema sbagliato e fossilizzato, che non può darti risultati concreti e stabili, che propone soluzioni ingannevoli e temporanee. Pensaci bene. Nessuno ti darà mai una garanzia sui risultati che potrai ottenere a lungo termine. Nei centri fitness la perdita di peso è pilotata. Perderai subito peso, ma nel breve periodo ti troverai a dover affrontare il famoso effetto yo-yo. In un anno si spendono circa 4.000 euro per il benessere, un patrimonio destinato a essere bruciato inutilmente. Oltre ai soldi, rischi di perdere anche un sacco di tempo, che potresti dedicare al tuo reale miglioramento fisico. Neomotus ha creato per te IDEA, Un percorso garantito, che ti permetterà di perdere 3 kg il primo mese. Fortemente personalizzato, studiato solo sulle tue potenzialità. Hai a disposizione un ambiente attrezzato per ogni tipologia di attività fisica, a numero chiuso, totalmente sanificato e in sicurezza. 5 personal trainer specializzati in diverse discipline. Un nutrizionista certificato. La prima garanzia è che avrai la possibilità di testare gratuitamente il nostro sistema. Ti forniremo in omaggio l'analisi del tuo stato di salute generale e una consulenza sul percorso di dimagrimento a te più idoneo. Prenotala subito, compilando il modulo in questa pagina. Comprende un esame tramite BIA della tua composizione corporea e dell'alimentazione con un nutrizionista professionista. Un esame posturale e seduta con un preparatore atletico. Tutta la documentazione. Il costo a te riservato. Compila il modulo in questa pagina per fissare il tuo check-up gratuito. Attenzione! Effettuiamo massimo 5 prove al mese. Quindi, prenota subito il tuo check-up riservato e senza impegno. Grazie per la visione!